La stagione estiva delle terme della Valpolicella di Villa 40 Parco Hotel ha ufficialmente aperto i battenti. Una festa di inaugurazione che ha sapientemente miscelato innovazione e tradizione. Questa l'atmosfera che si è respirata domenica sera in una delle location più suggestive della Valpolicella. L'insegna della tradizione ma anche uno sguardo aperto verso l'internazionalità. Sì, sicuramente la mia esperienza quella è. Arrivo da un background internazionale di ospitalità e questo stiamo cercando di portare anche a Villa 40, migliorandola in tutto, servizi, food, beverage, camere, tutto a 360 gradi. È una bella serata, siamo stati fortunati anche per il sole e per il bel tempo e penso che sia stata organizzata molto bene insomma visto le persone che ci sono. Abbiamo allestito con il prodotto cartel un po' tutto l'ambiente e penso insomma che il colore di cartel e il design sia molto importante anche in queste situazioni. Grazie a tutti. Il must dell'estate 2013 ha quel sapore cosmopolita cui tanti veronesi e turisti non sapranno rinunciare per tutti i giovedì estivi. Dalle 19 alle 24 Villa 40 aprirà infatti le sue porte ad una suggestiva location, alla musica di DJ Frasche e ad un vario pinto buffet. È una sera di festa questa sera a Villa 40. Inauguriamo la stagione estiva con la prima festa di inizio estate. La giornata Villa 40 può essere una giornata di relax o una giornata di sport e fitness. Abbiamo le terme a disposizione dei nostri ospiti alimentate con un'acqua termale a 34 gradi, un termarium con sauna, bagno turco, percorso knipe, cabina neve e bagni di vapore. Oppure la palestra al centro fitness per allenamenti più o meno intensivi. Oltre a questa serata di inaugurazione della stagione estiva, ogni giovedì sera c'è l'aperitivo dalle 19 alle 24 con buffet e musica per tutti. Villa 40 sinonimo di piscine termali, fitness, relax, sauna e termarium. E ancora hotel, ristorazione, centro congressi ed eventi. Un vero universo reinventato per un lifestyle all'avanguardia. Grazie a tutti.